Dov'è? Sta zitto Abbiamo beccato Sta zitto Qualcuno l'ha beccato Ascoltalo 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 Ci siamo Dov'è? Lì Ascoltalo È autentic Bruciatela. Perché non l'hai lasciato lì per farlo registrare dalla squadra prove? Gli sfuggono certi particolari. Lo porterò io di persona. Perché facciano le cose per bene. Quanto ci vorrà prima che tutto questo scompaia? Prima di bruciare fino all'ultima briciola? Le risorse sono scarse. Prima o poi lo prenderemo tutto. Prima di bruciare. Prima di bruciare.